Forio si avvicina al voto, sempre più vicine le elezioni amministrative. Qual è il suo parere in qualità di esponente di Aria Nuova? Già abbiamo annunciato alla cittadinanza anche attraverso una conferenza stampa la nostra linea autonoma. Aria Nuova si presenterà alle elezioni senza stipulare alcun accordo con la vecchia classe dirigente politica degli ultimi 30 anni. Magari potremmo valutare degli apparentamenti con pezzi della società civile, ma non certamente con chi ha contribuito a rendere questo paese in queste condizioni. Quindi credo che presenteremo la candidatura di Aria Nuova in maniera autonoma con il sottoscritto candidato sindaco. Un movimento che parte dal basso, dai cittadini e quindi non si equalizza. Un movimento che vuole valorizzare la cittadinanza. Umilmente, a bassa voce, tra la gente, nelle strade, nei rioni, nelle piazze. E questo è il modus operandi da parte mia, da parte dei componenti di Aria Nuova, perché, lo ripeto, andremo in giro appunto in tutta Forio. E quindi mi ricollego anche a Panza, che è stata sempre marginata, chiamata frazione. Per me non è la frazione, Panza per me è Forio, così come le altre zone come Monterone, da dove io vengo, San Francesco. Perché sono località bellissime e che meritano dignità, come merita dignità la cittadinanza foriana. Temete gli avversari che si stanno prospettando? Rispettiamo tutti, non temiamo nessuno, perché la nostra è una proposta politica seria, una nuova offerta politica, perché il consenso lo chiederemo sul programma, noi sui nomi. Io amo ripeterlo spesso, nessuno mai chiederà in questa campagna elettorale di votare Nicola Manna, perché Nicola Manna è l'unto del Signore. Io credo che gli uomini passano, restano le idee, come diceva Falcone, quindi io mi affido un po' a quel, per me è un motivo di, è un monito. Andare avanti così non ha più senso con queste amministrazioni, quindi vogliamo dare un'offerta nuova alla cittadinanza foriana. Un cambiamento radicale e un cambiamento che avrà una risposta positiva, secondo lei, dalla cittadinanza? Ci crediamo, siamo rispettosi del popolo, qualora la cittadinanza foriana non dovesse ritenere accettabile la nostra proposta politica, ne prenderemo atto, ma questo ci lascia con la coscienza a posto, perché quello che ci spinge è l'interessarsi per il proprio comune, per il proprio paese, rilanciandolo e togliendolo dalla condizione di mortificazione degli ultimi anni.